il materiale softy di gerardini con cui è realizzata la shopper è un tessuto in pvc filato e trattato nei laboratori artigianali della pistolesi peletterie distributore del brand in italia la g di gerardini logo storico dell'azienda avvolge tutta la superficie ed è garanzia di autenticità della borsa come il tiralampo personalizzato i manici sono realizzati in morbido pellame tono su tono con la nuance della borsa tre scomparti di cui due chiusi con clip automatica e quello centrale da zip permettono un'ottima organizzazione del contenuto